Sono molto contento di questo mio inizio, penso di essere arrivato quest'anno con la giusta maturità, ho fatto un percorso giusto, insomma anche un po' particolare, però dai sono molto contento e penso solamente a dare il massimo e a dare tutto per questa maglia. La concorrenza è molta ma nel mio ruolo ci sono tanti giocatori da cui rubare sempre qualcosa e ho trovato un grandissimo gruppo con grandissimi giocatori ma anche grandissimi uomini, basta vedere il campionato che hanno fatto l'anno scorso perché vincere i playoff penso sia ancora più difficile che vincere un campionato. Io li ho disputati, so cosa significa arrivare fino in fondo e ripeto ho trovato un grande gruppo con grande entusiasmo ma grande voglia di lavorare, grande serietà, un'organizzazione penso che in questa categoria non c'entra nulla. Ripeto, sono molto contento, io penso solamente a mettermi a disposizione del mister e della squadra, a dare tutto per questa maglia e niente, sono molto contento. Io sono un centrocampista, diciamo che in questo modulo, il modulo che sta attuando il mister quest'anno, il 4-3-3, penso sia un modulo che mi piace molto perché posso ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. Sono un centrocampista di qualità che mi piace offendere, anche se negli ultimi anni ho lavorato molto sulla fase difensiva, mi piace anche dare una mano alla squadra perché penso che in questa categoria bisogna fare bene entrambi le fasi. Ci sto lavorando, stiamo lavorando molto e devo solamente mettermi a disposizione del mister e della squadra e continuare così. Sì, certo, come ho detto prima, giocando da mezz'ala in un 4-3-3 è importante inserirsi con i tempi giusti per cercare di far male. Oggi insomma sono riuscito a far gol, però penso che la cosa più importante per un centrocampista sia quella sempre di mettersi a disposizione della squadra perché quello che conta alla fine è il gruppo. Conta soprattutto fare bene entrambi le fasi e su questo devo migliorare molto e cercherò di dare il mio contributo ogni volta che sarò chiamato in casa. Penso che un anno al sud a Caserta mi abbia formato molto anche sotto quel punto di vista e penso che sia stata anche una scelta giusta quella di andare a fare un campionato di Lega Pro al sud perché forse ne avevo bisogno. Ma di centrocampisti ce ne sono tanti. In squadra penso che posso ispirarmi a tanti centrocampisti. I miei idoli ci sono, da Luca Modric, adesso è inutile fantasticare. Però penso che nella mia squadra ci sono dei centrocampisti che hanno calcato campi di Serie A e già dai primi giorni cerco sempre di rubare qualcosa durante gli allenamenti.